Il suo nome non era nel calendario. Niente santi in paradiso, peridio. In famiglia lo chiamavano bimbo, anche se aveva ormai 18 anni e lavorava dall'età di 13. La mattina si alzava prima dell'alba, si lavava faccia e collo nella pilla e andava a tavola, dove trovava pronta la zuppa di latte. Si godeva con entrambe le mani il calore della scodella, guardando sua madre dedicarsi ai preparativi per la cena. Nel vederla sgrenare i fagioli, idio esultava. Seduta, con la testa reclinata, teneva i baccelli con una mano e con l'altra faceva scorrere il pollice lungo la saldatura del carpello. I semi maturi saltavano fuori e si ammontichiavano sul tavolo. Le bucce finivano per terra. Stasera pasta e fagioli, pensava idio, ammirando i movimenti precisi della madre e la sua scriminatura perfetta. Finita la colazione, metteva la tazza nell'acquaio e porseva il capo per il saluto. Lei lo baciava sulla testa arruffata. Ciao, bimbo. Idio raggiungeva il padre nei campi. Dobbiamo arare e fare il trinciato per le bestie, diceva il vecchio e si avviava verso il gran turco. Dal padre, idio, aveva preso la mascella squadrata e il fisico tarchiato. Dalla madre, gli occhi sorridenti e i capelli neri che portava alla mascagna. Il padre era un brav'uomo. Gli altri fattori dicevano, «O Bendinelli, perché dai il fieno alla bestia se domani va il macello?» Lui rispondeva, «Domani è domani. Stasera ha fame». Nei campi si lavorava dalle tre alle dieci del mattino. Poi il sole impediva di andare avanti. Idio sudava così tanto che a fine giornata era passato da 64 a 61 chili. Lui e suo padre pranzavano all'ombra del caco, perché lì sotto non c'erano insetti e moscerini. Concludevano il pasto con due o tre susine. Idio le assaporava come gli aveva insegnato suo nonno. Con i denti faceva un piccolo buco nella buccia e ne succhiava fuori la polpa poco a poco. Era una delizia. Dopo mangiato, sonnecchiavano per qualche minuto. Idio si riempiva le narici dell'odore di resina e di fieno tagliato. Amava quel profumo nel quale si fondevano il silenzio dei campi e il russare del padre. Se si tagliava, Idio strappava alcune foglie di erba a spargine e le strizzava facendo collare la linfa sulla ferita. Poi ci applicava della garza, che portava sempre in tasca. Al tramonto si emozionava nel vedere il sole colorare il terreno, le bestie, la casa. Nelle notte temporalesche si metteva la cerata sulle spalle e usciva. Si sedeva sui calcagni e guardava il cielo. Sotto i fulmini le gocce risplendevano a milioni. Immaginava che la terra ne godesse come ne godeva lui nel bere un bicchier d'acqua. Non appena sentiva le palpebre chiudersi, sollevava la testa per ricevere la pioggia in faccia. Nel tornare a letto, già pregustava l'aria fresca e dolce dell'alba unita alla frore della terra bagnata. Il giorno più atteso era il sabato, perché si andava a ballare. Idio raggiungeva la balera attraverso le rughe del paese. Le rughe erano virte strette e acciottolate, che si snodavano come butelli brulicanti di vita tra le casette silenziose. Idio si fermava ad ascoltare i racconti dei vecchi, le cui facce si coloravano sotto l'ombra del bucato steso tra le finestre. La domenica Idio andava al mare. Lui e i suoi amici tagliavano attraverso la macchia, gustandosi l'aroma dei pini. Arrivati sulla spiaggia, legavano le biciclette, si spogliavano e scattavano verso la riva. L'ultimo è un bischero! Idio correva con tutte le sue forze. Se qualcuno inciampava, Idio rideva forte. La sensazione dell'acqua fredda sulla pelle tiepida era unica. Finito il bagno, si straiavano sulla sabbia ad asciugare. Appena il caldo diventava insopportabile, tornavano a tuffarsi. A metà pomeriggio spuntava dalla pineta il gelataio con il carretto a pedali. Vociava nella cornetta «Gelati!» e tutti accorrevano. Un cono costava una monetina. Erano giornate lunghissime e bellissime. Sulla via del ritorno, Idio si attaccava ai furgoni in transito e si lasciava portare senza pedalare. Aprendo la porta di casa, si godeva il sentore di aglio, pomodoro e pane mischiato a quello di legno vecchio e di lavanda. Sua madre era indaffarata per la cena. Suo padre, a capotavola, le parlava di qualche faccenda di lavoro. Idio si sedeva e aspettava la cena, esausto e felice. L'inverno era duro, ma per scavalcarlo bastavano le patate stivate nella rimessa e quel poco che dava il campo nei mesi freddi. Cavoli, carote, sedano, finocchio, insalate, gobbi. Sulla tavola da pranzo c'era sempre un piatto di gobbi fritti, che erano ottimi, anche freddi. Idio sentiva l'acquolina all'idea di mangiarli tra due fette di pane. Qualche volta, però, mancava tutto. Una sera di gennaio trovò sua madre seduta davanti al fuoco. Aveva le spalle curve e sembrava preoccupata. «Mamma, che c'è? Oggi non ho trovato niente da mangiare per domani, bimbo». I terreni là fuori erano rasi dal gelo. «Mamma, posso prendere la bicicletta di papà?» «Per fare che?» «Lo so io!» «E se ti scopre, non mi scopre!» Idio prese una cerata e uscì. La bicicletta era da trasporto, con due cassoni sulla ruota di dietro e uno sul manubrio. Quarante chili di peso. La inforcò e partì verso la palude. Lasciò la bicicletta sull'argine e scese nel fosso. Guardò la luna piena. «Bene», pensò. Si spogliò, si immerse e cominciò a strappare l'erba del fondale, ammucchiandola sulla riva. Dopo che nebbe raccolta a sufficienza, si rivestì e la caricò di corsa sulla bicicletta. Sapeva che fermarsi avrebbe significato prendersi una polmonite. Si buttò la cerata sulle spalle e partì. Arrivato a casa, si precipitò davanti al camino. «Bimbo, che hai fatto?» Idio si buttò a sedere. «Mamma, fuori c'è la bicicletta piena di erbe». La mamma si buttò uno scialle sulle spalle e uscì. Quando rientrò, le brillavano gli occhi. «Bimbo, abbiamo da mangiare per tre giorni!» Idio, felice, sentiva il calore del fuoco mordergli le dita. «Idio, ci sono dei bofonchi che danno noia», gli disse il padre un pomeriggio di primavera al primo caldo. «Andiamo!» Idio prese la pala, lo spruzzino della benzina e seguì il padre sul limitare del campo. Disposero della paglia tutti intorno al nido dei bofonchi, che era sottoterra. «Forza, bimbo!» disse il padre. Idio spruzzò di benzina la paglia e le diede fuoco. Piantò la vanga a pochi centimetri dal nido e la ribaltò, smuovendo la terra. I bofonchi sciamarono fuori e caddero oltre il fuoco, vivi, ma con le ali bruciate. Il padre si abbiò verso casa. «Son serviti!» Idio si attardò dietro una vite. Nel giro di un minuto le vide arrivare. Le averle, piccole e colorate, si sono impicchiate e si misero a beccare gli insetti. Li uccidevano colpendogli il capo e ne divoravano la parte grassa. Idio seguì affascinato quella caccia, finché non provò una stanchezza improvvisa. Tornando verso casa si sentì triste e non capì perché. Un giorno arrivarono due carabinieri con un foglio in mano. Davanti al municipio fecero i nomi di chi sarebbe andato in guerra. Idio era nella lista. La mattina della partenza mangiò in silenzio la zuppa di latte. Si sentiva allegro. Per la prima volta sarebbe uscito dal paese. La madre lo guardava in un modo che lui non capì. Uscirono insieme per andare alla stazione. Suo padre sventolò il berretto da lontano. Idio fece per andargli incontro, ma l'uomo si rimise subito a zappare. Idio si fermò e gridò «Ciao babbo!» Il vecchio bestemmiò con gli occhi puntati a terra. Davanti al treno la madre lo salutò, come sempre, con un bacio sulla testa che a Idio sembrò più lungo del solito. In capostazione fischiò. Idio salì in carrozza, sistemò il bagaglio e si affacciò al finestrino. Il treno partì. Tutti gridarono «Urrà!» Idio fu preso da un misto di pietà e di orgoglio per sua madre, così silenziosa, piccola e sola, in mezzo alla folla festante. Tra le lacrime la fissò finché non la vide scomparire in fondo ai binari. In treno tutti cantavano e fumavano. Idio non aveva capito perché si andasse a combattere, né dove, ma non faceva domande. In ogni stazione salivano altri uomini tra l'esultanza generale. Madri in lacrime, padri più tranquilli, ma con il naso rosso, bambini che saltavano di gioia e cantavano a perdifiato canzoni patriottiche. Nelle carrozze si cominciò a star stretti, ma questo non dispiacque a Idio. Era scomodo, ma divertente. Paesaggi nuovi e meravigliosi si inquadravano nei finestrini. Al passaggio del treno i contadini smettevano di lavorare e agitavano i cappelli. Arrivarono a destinazione pigiati gli uni sugli altri. La caserma sapeva di disinfettante, di sudore e gli sembrò di limone marzo. Nella fila per la consegna degli stivali e dell'uniforme, un ragazzo ben vestito davanti a Idio disse tra sé chissà che effetto fai il rosso sul grigio verde. Idio non capì che cosa volesse dire. Dopo una sosta dal parrucchiere cominciò l'addestramento che verteva su lunghe marce con pesanti zaini sulle spalle. Molti mostravano una gran fatica ma per Idio fu quasi un gioco. Alla consegna del moschetto per le esercitazioni di tiro Idio notò con soddisfazione che era fabbricato in noce ed era più leggero di quello di casa. Chissà come piacerebbe al babbo pensò la guerra è finita ce lo lasciano tenere glielo regalo. In meno di due mesi risalirono sul treno. Ci fu di nuovo una partenza calorosa ma le manifestazioni di giubilo diminuirono di città in città fino a cessare. L'ultima stazione era deserta. La marcia fu silenziosa. Sudiva solo l'affondare degli scarponi nel fango. Il cielo era coperto di nuvole lattiginose che proiettavano grigiore su ogni cosa. l'inverno sembrava appostato nei boschi all'orizzonte. Le trincee erano circondate da terra bruciata disseminata di carcasse animali e di ruderi carbonizzati. In lontananza spiccavano forme contorte sospese a mezz'aria. Idio guzzò la vista e capì che erano corpi intrappolati in un'immensa fila di reticolati di filo spinato. Lo stesso filo spinato pensò Idio usato dai mezzatri più ricchi per recintare i pascoli delle vacche. Ovunque regnava l'immobilità. L'unico movimento era dato dai topi grossi come gatti. La trincea era un budello scavato nella terra zeppo di uomini silenziosi imbrattati di fango. Idio notò con orrore un soldato fumare di fianco a una gamba semisepolta. Sopra il piede nudo stavano incollate delle mosche nere immobili. Il primo pasto fu a base di carne in scatola. Idio non ne aveva mai vista. Un uomo sulla trentina con dei capelli così biondi e dritti da sembrare spighe di grano si tagliò aprendo un barattolo e impercò con un accento francese che fece ridere tutti. Idio balzò in piedi facendogli segno di aspettare. Prese una gavetta la riempì d'acqua e in quattro e quattro acqua accese un focherello. Fece bollire l'acqua. Tirò fuori dalla tasca un ciuffo secco di erba spargine e lo mise in ammollo. Lo strizzò e glielo pose sulla ferita. Infine fasciò la mano con della garza. L'uomo si fece medicare. disse qualcosa ma Idio non capì. Quello tirò fuori dal tascapane un pezzo di cioccolata e gliene offrì. Maurice Idio Nei giorni di pioggia Idio guardava l'acqua gocciolante dal cappuccio picchettare la pozzanghera ai suoi piedi. Teneva gli occhi bassi per la paura di vedere la terra di nessuno balluginare sotto i fulmini. Rimuginava. L'indomani sarebbero sprofondati nel fango fino a mezza gamba. Ne era sicuro. Per fortuna in tutto questo Idio aveva almeno trovato un amico. Maurice Insieme si facevano delle lunghe fumate. Uno parlava dei campi l'altro di Parigi. Quando torno a casa non voglio più fare il contadino diceva Idio Voglio aprire una mescita Al mio paese non ce n'è nemmeno una. A guerra finita verrai a Parigi con me rispondeva Maurice Apriremo un bar lassù. In trincea si passava il tempo a spalare e a scavare. Non c'era molto altro da fare fino al giorno dell'assalto. Quando l'ora arrivò i soldati furono allineati di fianco alle scalette. Idio vide i veterani farsi il segno della croce. Guardò i pioppi all'orizzonte devastati dalle granate. Controllò di avere in tasca l'erba spargine. Maurice era poco distante. Si fecero un cenno di saluto. Al suono del fischietto l'ufficiale gridò Savoia! Tutti balzarono fuori dalla trincea e cominciarono a correre. Da subito Idio vide gli altri cadere. Sembravano inciampare. Nell'aria piena di fumo e polvere i proiettili sciamavano invisibili e l'impatto sugli uomini produceva un rumore sordo. c'era chi tentava di ritirarsi ma tornava all'attacco sotto il fuoco dei carabinieri che dalla trincea mitragliavano chiunque non avanzasse. Idio si aggrappò alla terra. Intorno s'alzavano urla lamenti e invocazioni d'aiuto. A pochi metri da lui un uomo gigantesco vomitava piegato in due con le braccia inerti lungo i fianchi. Poi si narcò e gridò mamma! Fu il primo di molti. Idio affondò la faccia nel suolo. Con movimenti lenti e pesanti portò il calcio del moschetto alla spalla. Sparò senza mirare. Rimase immobile finché non sentì l'ordine di ritirata. Girò su se stesso e cominciò a strisciare. Qualcuno gli toccò un brazzo. Era un soldato dal volto sfigurato. Di intatto gli restava solo un occhio spalancato. Da come teneva le gambe Idio capì che erano entrambe spezzate. Provò a trascinarlo per il colletto della giubba ma rinunciò quasi subito. L'altro gli afferrò l'orlo dei pantaloni. Idio si riberò scalciando e continuò a strisciare. Cadavere dopo cadavere buca dopo buca guadagnava terreno. Intorno a sé vedeva i feriti contorcersi orribilmente orlare immobili. Altri ancora procedevano appiattiti come per scalare una parete verticale. I proiettili si conficcavano ovunque sollevando cortine di terrizzo. Idio trovò la trincea piena di morti. Le uniformi erano zuppe di quello che sembrava inchiostro nero. Ricordò di colpo la battuta udita al suo arrivo in caserma. chissà che effetto fa il rosso sul grigio verde. Cercò dell'acqua e beve avvitamente sotto gli occhi vitri di un ragazzo che sedeva appoggiato al parapetto con le mani sulle viscere. Si incamminò come un sonnambulo verso le latrine. Nel mezzo di una zolla erbosa vide alcuni soldati abbattere un cavallo a colpi d'ascia. Di accanto un ciuffo di capelli biondi come il grano spuntava da un groviglio di corpi. Mamma mormorò Idio prima di svenire. Ci decimeranno per codardia di fronte al nemico disse qualcuno durante il rancio. Idio non sapeva che cosa significasse decimazione ma non fece domande. Nel giro di poche ore gli ufficiali sorteggiarono otto uomini del battaglione gli legarono le mani e li condussero davanti a un rudere. Uno si staccò dalla fila e cominciò a correre. I carabinieri lo inseguirono arrancando nel fango. Lo acciuffarono e lo ricondussero al muro dove gli altri aspettavano già bendati. Vergognati gridò un ufficiale che si stava radendo davanti a un piccolo specchio. Così fai aspettare i tuoi commilitoni. Il soldato scoppiò in singhiozzi. Ho paura. il prete gli mise il crocifisso davanti al viso. Tra poco sarai tra le braccia del padre. Ma io voglio la mamma. Qualcuno rise ma senza allegria. Tornò la noia settimane interminabili nelle quali Idio imporò a mangiare tra i cadaveri a bere da pozzanghere infestate di ratti. Durante i temporali si accucciava sopra una gora e stava lì immobile a fissare il proprio riflesso picchiettato dalla pioggia. Venne il tempo di un altro attacco. Il fuoco d'artiglieria troppo corto ricadeva nella terra di nessuno facendo a pezzi i feriti moribondi e i cadaveri insepolti. Idio prese posto alla scaletta disporse dal parapetto e guardò la terra monca e annerita. Ebbe pietà come di una persona. Al suono del fischietto salto fuori e corse avanti. Questa volta fu lui a inciampare. Il suo cadavere fu sommerso da un'ondata di terra e fango sollevata da una bomba d'aeroplano che uccise altri quattro uomini. A guerra vinta nella piazzetta del paese di Idio ci fu una cerimonia con il sindaco e l'orchestrina. Un uomo dal volto come d'argento vecchio prese la parola. Trento e Trieste sono finalmente sul suolo patrio disse con il petto tintinnante di medaglie grazie alla nostra eroica gioventù che ha sacrificato la vita sui sentieri della gloria. Disse altre cose voltandosi a destra e a sinistra del palchetto. Alla gente in piazza ricordò quei pupazzi che escono dagli orologi dei campanili per battere le ore. E infatti alla fine del discorso si bloccò di scatto proprio come se si fosse esaurita la carica a molla. Nella piazzetta calò il silenzio. Nessuno parlò né si mosse. Stavano tutti a capuchino come in chiesa. Il sindaco diede il segnale e il monumento fu scoperto. Comparve un soldato impettito con lo sguardo fisso all'orizzonte e in una mano stringeva una granata nell'altra un moschetto. Sotto c'era scritto al milite ignoto. Era una statua piccola perché il comune era povero ma in città disse qualcuno ce n'erano di molto più grandi. Tutti tornarono a casa o al lavoro. In piazzetta restarono solo le madri in lutto. Una di esse piccola e minuta fissando la statua disse non somiglia per nulla al mio bimbo.